ma riservata agli anziani con i nastri, davanti sono Ramada, Pepita, molto gettonata, Milionaire, Orland, Pireus, Rory Macbaba, Santiago, a 2080, Running Amare e Miguel, anche Orland e Chiari, sembra l'alternativa, la più valida al primo nastro, cavalli che stanno per venire in pista grande. Milionaire Room, Pepita con allargo Pireus, Pireus punta in avanti, allunga Milionaire, Pireus potrebbe farsi spazio, vediamo un po', oppure va dritto, poi Ramada, Pepita e siamo al completamento del lancio, corre al comando, allora Milionaire. 15 a partire, la Pepita però non tarda a spostare e la lieva di Minopoli va subito su Milionaire Room e viene via bene la Pepita, classico freeway gradato, 29,2, un po' di spesa, rimane nasino al vento Orland che punta in avanti, cavalli che affrontano la seconda curva, la Pepita completa i 600 in 43,9 e Orland sarà ancora un freeway con spesa anche per il De Chiari che al completamento e la piegata scende lungo i birilli. 800,5 piuttosto sostenuti, 58,9 chiacchierisce il mio cronometro, e Orland, Pepita, Milionaire, poi Pireus e Rory Macbaba. Si completa il primo chilometro da start a start in 1,13,6 e i cavalli che affrontano la penultima curva. Non c'è stata velocità nel pomeriggio ma c'è in questa corsa almeno per il primo chilometro. Orland amministra ora i birilli, una frazione comoda in 16 e un po' di spiccioli e di fronte nulla muta nulla cambia con Orland, la Pepita, viene via deciso Pireus e si affaccia la Pepita, la frazione di fronte in 15,4, guadagna di dentro Milionaire. I cavalli affrontano la curva finale con la Pepita che sta passando in vantaggio. Il Miglio se ne va in 1,59,7. La Pepita sta passando ma si libera Milionaire. Cavalli ha completamente la curva finale. La Pepita passa definitivamente in seguito da Milionaire. Pepita allunga, se ne va, se ne va, se ne va. Orland alla grande tenta di reagire a Milionaire che ci prova e sul palo i due vicini, Orland e Chiari. Ancora secondo nei confronti dello stesso Milionaire. 1,14,1, 2,28, io ho 2,27,8 da start a start con 13,4 in chiusura. Aveva corso alla grande nella triste questa Pepita ma oggi dimostra veramente di essere al top. Ma elogio anche a Orland e Chiari che ha scoturito questa velocità notevole e un ritrovato Milionaire. 2,20 per la Pepita. Mario Minopoli Junior, tutti i fronti. Fine allo studio.